Il presidente del club, Brian Solo, il signor Mauro Rossi, che da oggi entra di diritto nella famiglia dell'esempio e aderendo al progetto Io ci sono, e allora un applauso e un benvenuto ai Pirati Raffi e al nuovo presidente, il signor Mauro Rossi Davide, girate, comunque tu sei arrivato in ritardo quindi sei te colpevole, dovevi essere deprimato? Di fronte alla panchina, vedete? E le panchine sono queste? Di fronte? Se ti metti di fronte alla panchina, comunque niente, meno male che noi ci siamo e noi ti abbracciamo e fai sei il nostro avendo, ci siamo i nostri amici, è quello che conta Noi siamo del Poi del Santibur, quindi noi ti manchiamo, un abbraccio a tutti, dai Venite, tutto il gruppo, noi siamo venuti da Brescia per te, dai Adesso lo portiamo anche lui Eccolo qua, questo è il gruppo breciano, eccolo Aspetta, aspetta, c'è il titolo, eh Eccolo qua, ci siamo? Ok Noi siamo venuti per te, Davide Ok? Io non mi mando Noi siamo venuti per te, Davide Noi siamo venuti per te, Davide